Edoardo Repetta con noi, un 2000 alla corte del Busalla. Com'è la vita in attacco per un 2000? Non è sempre facile creare spazio necessario per giocare sempre, ma in questa squadra ho trovato il mio spazio, mi trovo bene. In attacco spesso si trovi con avversari più grandi con cui non devi fare il furbo, devi sempre tenere orecchie basse, ma quando hai l'opportunità devi far vedere con personalità cosa sei capace a fare. Ok, oggi tre punti importanti che vi mettono in una buona posizione, anche se le altre hanno fatto bene. Dobbiamo stare attenti a non sbagliare niente, perché ogni errore poi lo paghiamo in futuro. Credo che comunque con la squadra ci siamo, siamo concentrati, anche se ora come ora al campo ci saranno un po' di problemi, ma siamo uniti, siamo una squadra unita che lotto uno per l'altro. Ok, prossima partita con la Rivarolese, se non sbaglio. Sì, è un avversario molto difficile. Prometti una doppietta? Non prometto niente, meglio restare umili diciamo. Ok, grazie e complimenti. Sì, non c'è da tempo, ragazzi.